Il Sulmona Fuzzalla ha bisogno del sostegno dei tifosi nell'ultimo appuntamento che vale un'intera stagione. La società mette a disposizione un pullman gratuito per quanti volessero seguire la squadra sabato prossimo 13 aprile al pallarigopiano di Pescara per la finale contro la Nobel Boys, valida per la promozione in Serie C1. E' necessaria la prenotazione dalle 15 alle 19 al dirigente William del Monaco telefonando al 347 53 69 454. La partenza avverrà alle 13.30 da Piazza Capograssi nei pressi del Tribunale. L'auspicio dell'ASD Sulmona Fuzzalla è quello di ripetere l'entusiasmo che si è avuto lo scorso sabato al Palasport Nicola Serafini nella semifinale vinta con la Virtus San Vincenzo Valleroveto. Il calore del pubblico ha rappresentato in quell'occasione il sesto uomo in campo. Al fine di creare un ambiente simile la società biancorossa sta facendo di tutto per portare tifosi e simpatizzanti alla finale al pallarigopiano che è ad ingresso gratuito con calcio d'inizio alle 15. Per le prenotazioni telefonare al 347 53 69 454.